Gentili degli spettori protagonisti, in occasione della quinta edizione di Hip Champion, abbiamo incontrato l'attore osannato dal piccolo schermo, lui è Lorenzo Ferti. Ciao e non siete benvenuti. Ciao, grazie, grazie a tutti voi. Lorenzo, ci incontriamo in occasione di questa quinta edizione di Hip Champion, dal titolo accattivante, racchette e forchette. Tu attore interpretativo e estremamente versatile, come ti rapporti con l'arte culinaria? Beh, oggi abbiamo vinto e abbiamo fatto una pasta al pomodoro, cappari al pomodoro, con una rivisitazione un po' quasi alla puttanesca, insomma, con la ricciola. Un piatto buono che hanno apprezzato tantissimo, quelli della giuria, siamo andati bene, Belencio ha messo del suo e alla fine abbiamo vinto. No, a me piace la cucina, ogni tanto a casa mi dedico alla cucina, sempre perché mi rilasso e poi lo trovo creativo. Ma soprattutto con la mediterranea, no? Soprattutto mediterranea, poi qui siamo proprio nel cuore, insomma, della cucina mediterranea, è la maggiore espressione che si possa dedicare alla cucina mediterranea. Tu sei a metà irlandese e a metà italiano, dal papà e da mamma, chi assumiti più nel temperamento e nel carattere? Beh, gli irlandesi con gli italiani sono molto simili perché sono gli irlandesi che vengono chiamati i mediterranei del nord, per cui c'è molta affinità, però ovviamente io essendo nato in Italia, come posso dire? Poi stasera c'è una partita che non è contro l'Irlanda, contro l'Inghilterra, però comunque siamo lì, no, 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 io tifo Italia, diciamo. Senti, pensando all'ultimo tuo lavoro, parlo della fiction, Mr. Ignis, no? Come si tende sempre a recuperare soggetti passati e non quelli contemporanei, come se a nessuno fregasse più il contemporaneo, no? No, è che forse viviamo in un periodo storico come quello di adesso, di questi anni, dove forse ecco dei profili come quelli di Giovanni Borghi, Mr. Ignis, Olivetti e Ferrari, che hanno dato un contributo molto importante all'industria italiana, al self-made man, partendo da zero, forse possono essere, diciamo, in un periodo di crisi come questo, un po' da stimolo e anche ad esempio, insomma. L'importante è non dimenticare di questi grandi personaggi perché la tradizione che noi abbiamo sono loro e questo ci deve dare sempre uno sprint maggiore, che poi gli italiani hanno per fare, tirare fuori il meglio anche in periodo di crisi. Poi, per quanto riguarda il contemporaneo, no, visto che ci sono anche tantissimi bei film, insomma, anche al cinema, insomma, di contemporanei, credo che va bene fare sia l'uno che l'altro, insomma, questa, diciamo, forse è la linea più giusta da seguire. Tu parlavi di sprint, appunto, pensando alla grande bellezza di Sorrentino, appunto, premio Oscar, no, dovrebbe essere quello il traino e il volano, insomma, per riportare in auge il cinema europeo a questo punto. Beh, diciamo che l'Italia ha questa responsabilità molto forte, insomma, ha un background, una tradizione cinematografica che è stata un po' di insegnamento verso gli altri, è molto, molto forte, con registi, autori straordinariamente importanti negli anni. E questo esempio della grande bellezza credo che sia un esempio importante e anche un esempio che può significare che il cinema italiano c'è, è presente e vuole fare sempre di più. E indubbiamente è uno stimolo per, soprattutto per i giovani, insomma. E anche per il cinema indipendente, no? Ah, assolutamente, il cinema indipendente che in Italia sta diventando sempre più difficile, sta facendo, diciamo, in piccolo anche dei grandi passi avanti, comunque è sempre molto presente. Pensando un attimo al tuo percorso artistico, tanta fiction, no? Non si rischia poi di diventare un personaggio di nicchia? Beh, io quando ho fatto Risse, mi ricordo, per cinque anni, dopo quando ho smesso anche, non soltanto il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori mi chiamavano capitano. Mi dicevano, no, fai per questo ruolo, forse non va bene perché sei troppo capitano. E mi ricordavo quello che diceva Michele Placido che quando aveva fatto la piovra poi ci mise un po' di tempo per distaccarsi da quello straordinario personaggio, come per me è stato anche Riccardo Venturi, un personaggio straordinario. Però poi si recita, si fa gli attori e bisogna poter interpretare, avere la possibilità di interpretare tanti ruoli. Io ho avuto la fortuna di fare questo bellissimo personaggio e questa storia di Giovanni Borghi e sono entrato un po' in un'altra fase, insomma, più distaccato dal grande Riccardo Venturi in Risse. C'è una sfida che oggi ti appassiona? Ma sì, la sfida che mi appassiona è un po' rifacendoci al discorso di prima, credo che sia una sfida collettiva. Credo che anni fa si pensava più a, c'era più individualismo, sanno sempre individualismo. Adesso la sfida deve essere collettiva. Sento che c'è molto più, molto in più interesse, insomma, nel vivere le cose in comune. Parlo dei miei colleghi, il fatto di rincontrarsi più spesso, parlare, discutere, insomma, su tante cose, tanti progetti, anche a me su questa crisi che c'è. E credo che la sfida sia quella collettiva, sia quella di superare questo periodo difficile e tornare a un periodo un po' più fortunati. Soprattutto penso al teatro, ancora più in crisi rispetto al cinema e alla televisione. Sì, il teatro, diciamo che si rabattono un po' tutti, però c'è tanta qualità comunque, c'è tanta qualità nel cinema, teatro, televisione. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. C'è tanta qualità. A proposito di teatro, il Mr. Ignis, versione Rai Fiction, stiamo cercando di mettere in piedi, di montarlo per fare un evento teatrale, insomma, per farlo mostrarlo a tutta Italia, anche a loro, con un taglio, un adattamento teatrale. Perché credo che merite. Vabbè, la trasposizione, vista quella versione in chiave cinematografica, riuscirà senz'altro. Poi tu hai anche dei tempi, devo dire, molto teatrali, no? Dietro questo viso, che spesso sembra esprimere poco, invece hai dei tempi anche ironici, eh, devo dire. Sì, sì, sono un cavallo pazzo anche con... Sì, ultimamente, un po' nei personaggi che faccio, mi piace anche tirar fuori, soprattutto, l'aspetto umano e anche quel pizzico di ironia, perché quel tipo di leggerezza che gli si dà, poi, viene apprezzata anche quella, insomma, aiuta anche per renderli più credibili e più aperti, soprattutto, meno convenzionali. In ultimo, i prossimi palinzesti, quali saranno i sette che calcherai? Beh, adesso c'è un film di un giovane autore, che è un film d'azione, d'azione un po' particolare, divertente anche, un action movie, no? Quasi come di action movie. Il regista si chiama Daniel Agostini, è uno molto bravo, io repro che sia un vero talento, insomma, nel panorama nostro, in questo momento, dei registi e autori, e mi butto in questa esperienza, e poi, dopodiché, teatro, tanto teatro con Messerignis, evento teatrale. Lorenzo, nella trasmissione siamo i protagonisti, un tuo saluto a chi ci sta guardando in camera. Un grande saluto in questo splendido, magnifico posto, magnifica isola di Nove Capri, e a tutti coloro che seguono i protagonisti, un grande bacio. Lorenzo Flairti. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie.